Sindaco, questa mattina c'è stata l'udienza dal Papa. Quali sono state le parole del Santo Padre verso gli amministratori e anche quelle che sono state le emozioni? L'emozione è sempre potente perché è già la seconda volta che il Papa ci convoca, convoca una delegazione di sindaci italiani in Vaticano per chiedere, domandare, spronarci. Ci ha invitato ad essere sempre presenti sui problemi, di farci carico delle fasce più fragili della nostra società, non lasciare indietro nessuno e soprattutto ha condiviso con noi il lavoro che chi decide deve prendere delle decisioni per una comunità grande ha e sa che quanto è complicato certe volte, lo vediamo nel lavoro quotidiano di tutti noi, definendosi lui stesso, proprio nella chiusura del suo discorso, un sindaco, sostanzialmente qualcosa che assomiglia a un sindaco. Ovviamente è emozionante, dà anche tanta carica perché alla fine ti rendi conto che quella figura come Papa Francesco ti sollecia, ti sta vicino, vuole sapere come va, vuole avere il polso della situazione direttamente dai sindaci, vuol dire che il nostro è un ruolo che il Papa riconosce e che considera. Questo già di per sé è un grandissimo valore, per me poi rappresentare la città di Prato nella delegazione dei sindaci italiani è un'ulteriore soddisfazione. Le abbiamo ringraziato, io quando gli ho stretto la mano ovviamente gli ho portato i saluti della città e gli ho chiesto se ci potesse fare il regalo di tornare a trovarci. Papa Francesco ha riso, mi ha sorriso, però credo che sia una richiesta e gli arriverà da tante parti, però insomma ci abbiamo provato ed è stata veramente una bella emozione.